Tutto bene, immagino, no? Bene? Bene, benissimo. Santi, non hai risposto al telefono? Ti chiamava Caridad? No, gliel'ho detto io di chiamarti perché Nacio non rispondeva. Ti ha chiamato, ma tu non... Non avevo la suoneria al cellulare. Non ha suonato, non ha vibrato. Niente. No, non l'ho sentito. Ah, dai, come mai? Perché c'era molto rumore. Certo, posso immaginarlo. Sì, c'era la musica. Anche noi abbiamo fatto festa. Ok, ti racconto domani, visto che ti va di saperlo. Non sai quanto ci siamo divertiti, è un mondo. Ciao. Ciao. Tutto bene? Tuo padre? Eh, che ne so io. Ah. E il tuo? Ma neanche io so niente tanto per cambiare. Anche tu eri con gli altri, non è vero? Vi sarete divertiti un mondo. Dai, raccontami qualcosina, sono curiosa. No. No, che? È un segreto tra amici. Ah. Buonanotte. Sì. Ciao. Vi siete divertiti ieri sera, eh? Ma che... ma che ti importa? Hai esagerato, devi aver mangiato troppo, vero? Un vitello intero. A me piacciono solo le lepri, perché sono difficili da cacciare, ma sono così carini. Ma che fai? Vattene a dormire, dai. Vai. Quella, va a dire. Ehi, Nacho, ma chi è successo? No, è meglio che non mi dici niente, perché non voglio saperlo. No, non voglio, è meglio. No, va bene, non ti racconto niente. Sì, è meglio, tanto me lo immagino. Meglio. Tuo padre, tuo padre. Ignacio.